Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva, pongo in votazione l'articolo 2, la votazione aperta. Gigli. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva, pongo in votazione l'articolo 3, la votazione aperta. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva, pongo in votazione l'articolo 4, votazione aperta. Onorevole Piepoli, Onorevole Tripiedi, voti se no perde un altro voto. Onorevole Di Battista, Gadda ha votato? Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva, articolo 5, votazione aperta. Ci siamo Piepoli, Carloni, Ciraci, Stella Bianchi, Capelli. Mannino. Dichiaro chiusa la votazione.